altro incontro importantissimo quello di oggi che si sta sviluppando in video e in radio per chi ci ascolta in podcast con gli appuntamenti di Jutz e gestiti per noi per la CIS l'Emilia Romagna dal bravissimo Lorenzo Benassi a cui do come sempre molto volentieri la linea ciao Lorenzo ciao Matteo grazie a Radio Flyweb grazie per avere ancora una volta deciso di dare spazio all'esperienza che è davvero come dire un unicum un grande allenamento alla partecipazione a cui ci stiamo costringendo ma siamo davvero contenti di farlo per quanto questo poi significhi mettersi in gioco perché quando ci troviamo come è stato nella giornata di sabato a contatto con tante realtà capaci di partecipare capaci di dire la loro e che ci conoscono e ci conoscono anche nelle nostre inefficienze siamo stimolati davvero a metterci in in gioco e a migliorare abbiamo portato come al solito anche oggi qui qualcuno dei protagonisti delle persone più interessanti che abbiamo conosciuto alla tappa finale che poi è la tappa finale di confronto la tappa di sintesi ma poi seguirà tutta la messa a terra delle proposte che sono uscite dal percorso dal forum youths e si è tenuta a a Dumbo che è questo spazio rigenerato negli ex spazi ferroviari della stazione di bologna molto puoi dire anche molto metropolitano come spazio anche proprio ci sono luoghi che invogliano io credo la partecipazione Dumbo è uno di quelli e qui con noi oggi prima persona che vorrei presentarti è Francesca la presidente di gruppo Tice e voglio partire da lei perché ho scoperto questa mattina che ricorre un anniversario particolare gruppo Tice è una cooperativa sociale di psicologi oggi non so se lo sai Matteo è l'anniversario il trentesimo anniversario della legge che istituisce la cooperazione sociale 8 novembre per cui partirei proprio puoi dire con con lei che qui oggi può rappresentare questo mondo anche se in maniera insolita vero Francesca perché non è consueto che gli psicologi si riuniscano in cooperativa raccontaci un po' che cosa è stato dal tuo punto di vista la giornata di ieri allora io non sapevo dell'anniversario ma sono molto lieta che tu me l'abbia fatto notare nel senso che credo che la forma cooperativa davvero possa rappresentare un futuro rigenerativo e partecipativo quindi che possa rappresentare anche la forma d'impresa che meglio descrive la partecipazione delle persone a un bene più grande quindi mi immagino non tanti cittadini nel futuro ma tante piccole cooperative che imparano ad insegnare come cooperare quindi sono lieta la giornata dell'altro l'altro sabato è stato per me delirante io mi nutro di futuro quindi avere la possibilità di ascoltarlo direttamente è stato intrigante non senza difficoltà nel senso che mi sono accorta di come tra i giovani vi fossero persone visionarie ma anche tanti giovani con la paura un po di parlare con la difficoltà a concretizzare quelli che erano i loro sogni e questa sorta tecnicamente di impotenza appresa di lo penso ma non lo dico lo dico sotto voce sono incerto nel dirlo mi ha fatto sentire male per come magari tante volte ho tarpato la voce di giovani generazioni io sono lieta sono la presidente di questa cooperativa sono la più vecchia mi vanto moltissimo di lavorare soltanto con persone a cui cedo le spalle per guardare più lontano però ho sempre creduto nello spirito dei giovani quindi mi ha rappresentato molto la giornata di sabato ecco e poi con francesca abbiamo parlato ma questo lo teniamo per un secondo giro anche di orientamento perché quante volte si guarda al lavoro solo nei suoi aspetti quantitativi e non ci si chiede ma la qualità di questo lavoro quanto mi sento rappresentato da ciò che faccio quanto mi sento espresso nel lavoro che faccio francesca ha un background che ci ha aiutato a guardare anche a questa dimensione ma ci arriviamo dopo angelica polmonari di arcighei modena abbiamo già fatto la sua conoscenza è stata anzi la nostra prima conoscenza in youth sul prato di modena tutti seduti in cerchio a condividere e ad argomentare le nostre esperienze e angelica ci sono varie novità che ci hai raccontato ieri nella tua vita professionale hai fatto vari passi avanti raccontaci un po' che giornata è stata ieri e che cosa in qualche modo siamo oggi qui anche a festeggiare nei tuoi avanzamenti ok innanzitutto grazie grazie Lorenzo io sono una persona molto timida e riservata anche se non sembra quindi prima parlerò della giornata poi al massimo un flash proprio perché insomma come diceva francesca che tra l'altro ringrazio perché è stata una per me delle conoscenze più stimolanti di sabato è stata veramente felice di essere in gruppo con lei un po' per interrogarci anche sul tema dei diritti civili e per me youth è stata un'esperienza straordinaria e come diceva Lorenzo ci siamo conosciuti io Lorenzo e insomma anche altre persone che poi ho ritrovato sabato a giugno quindi insomma a Modena e youth è stato un percorso è stata insomma una alla fine sì un pezzo di strada fatto insieme io mi auguro che sia solo veramente il primo segmento di un percorso molto più lungo quindi sabato per me è stato unissimo momento per ritrovare persone come Lorenzo con cui in realtà poi mi ero già anche ritrovata in altre tappe di youth è stato un momento per conoscere persone nuove devo ammettere che il mio gruppo di lavoro closer gruppo 3 veramente un gruppo strepitoso ragazze come diceva Francesca ragazze giovani giovanissime alcune impaurite alcune un pochino anche più insomma coraggiose e però devo dire che abbiamo lavorato veramente bene insieme in modo orizzontale e per me è stato anche molto emozionante salire colpa salire sul palco dopo due ragazze molto giovani del mio gruppo che sono state insomma le prime a dire io voglio salire sul palco un po restituire l'esperienza anche del lavoro di gruppo e questo mi ha molto emozionato e il futuro che youth porti a tante altre collaborazioni magari non a cooperative come diceva Francesca però magari a tante iniziative di gruppo a tanti altri gruppetti informali collettivi che si verranno a costituire per parlare insomma di diritti di e anche del secondo me dell'importanza della socialità e del ritrovarsi perché secondo me anche proprio tutto questo questo frangente pandemico che abbiamo subito sicuramente ha inibito molte persone e quindi anche di vederci a vedersi sabato tutti insieme tutte insieme cercare di lavorare anche proprio in presenza una accanto all'altra per me è stato molto forte quanto mi riguarda ma sarò molto molto breve e il mio percorso in Arcigai continua e sono stata insomma da poco deve ancora arrivarmi la conferma definitiva che sembra che sia un catfish ma direi di no però insomma in realtà sono stata nominata come rappresentante europea all'interno del del women steering committee di ilga world quindi rappresenterò diciamo tutte le donne della comunità lbti plus europea e anche del centro asia da qui ai prossimi mesi all'interno di ilga world che la diciamo è la nostra grande casa associativa come diceva un po francesca anche io mi riconosco molto in queste strutture e ilga world quindi ilga mondo abbraccia 1700 organizzazioni in tutto il mondo che so come diritti lgbt e anche la mia casa che è Arcigai quindi insomma spero di essere all'altezza di questo ruolo però e sicuramente anche tutto il percorso di youth quello porterò con me in ilga e anche insomma nel futuro grazie e noi sappiamo quanto questa dimensione sia connessa fortemente alla dimensione del lavoro perché è anche lì dove i diritti possono affermarsi o venire violati avremo occasione di riparlare di questi temi certamente con angelica ci industrieremo per farlo e simone simone tabellini viene invece da un gruppo da una realtà che nasce all'interno dell'ambito universitario che è espressione della migliore voglia di partecipazione l'abbiamo incontrato ieri nel proprio mio gruppo quindi smarter 1 e si chiama visionary questa realtà nasce dal Politecnico di Torino e inizia a fiorire anche qui a Bologna anche qui in Emilia Romagna simone cosa ti è sembrata alla giornata di ieri e soprattutto raccontaci che cos'è visionary ciao Lorenzo buongiorno a tutti e a tutte allora sì io vengo in veste come rappresentante di visioni di Bologna che sarebbe l'hub di visionary movement un movimento che nasce a a Torino nel 2017 quindi relativamente giovane noi abbiamo una missione cioè la missione è quella di dare voce ai giovani e di dare in una maniera un po pratica pragmatica nel senso che noi siamo abituati nel nostro lavorare a creare azioni che possono raggruppare giovani menti e da queste azioni tirare fuori delle idee come appunto era la giornata di Jutz. Jutz secondo me è stato veramente un evento particolare e come dico particolare intendo dire un po diverso dal solito perché è sempre bello parlare di giovani sempre bello parlare di futuro ma secondo me è anche bello utilizzare utilizzo un termine che è uscito anche durante Jutz che sarebbe l'open innovation innovazione aperta cioè dare spazio anche pratico a tutte le nostre idee cioè secondo me il valore dell'evento in sé è proprio quello di tornare a casa e dire concretamente di aver fatto qualcosa di aver avuto delle idee in diversi contesti perché alla fine i temi trattati sono stati tanti io essendo un appassionato di startup e di sostenibilità e ho sbirciato un po' nei diversi cluster per per immedesimarmi appunto nel nelle idee che erano state proposte ed è stato veramente molto molto stimolante quindi visionary si colleghiamo un po' a Jutz rispetto a questa pragmaticità dell'idea e creare appunto una lista di proposte da poi da poi applicare quindi molto bello questo punto di vista. Ecco collegandomi a quanto dice Simone molto evidente anche per me in questo percorso la componente insieme idealistica ma anche molto pragmatica dei ragazzi che abbiamo incontrato a Jutz e credo che le due cose nelle nuove generazioni si tengano sia proprio un prodotto generazionale questo questo legame forte tra tra prassi e teoria per così dire per cui adesso per questo dicevo adesso incomincia il bello perché abbiamo parlato tanto condiviso tanto le proposte sono emerse la regione poi ha fatto delle promesse anche molto a stretto giro riguardo la messa a terra di tali proposte e sarà qui dove ci si gioca l'efficacia del percorso. Intanto vado con l'ultimo dei nostri ospiti di oggi ultimo ovviamente solo in senso cronologico poi ieri abbiamo condiviso vari spunti interessanti con Jackson Giacomo Tomassone che studia all'Unimorio Università di Modena e Reggio e che ci ha davvero strutturato davanti agli occhi insieme alla sua come dire socia nella presentazione di questa proposta una nuova comunicazione per la ricerca per la diffusione della mentalità scientifica e tecnologica in regione. Buongiorno Jackson. Grazie Lorenzo, buongiorno a tutti quanti, bellissimo essere qui. Sì la mia collega è la Lisa, l'ho conosciuta il giorno stesso quindi in realtà non so dare più di più i dati ecco a riguardo. E quindi che cosa avete proposto ieri? Raccontaci un po' con che spirito sei venuto a Jutz e che cosa hai trovato a Jutz? Allora io sono venuto in parte come partecipante perché volevo vedere un pochino questa realtà, cosa fosse, come me ne avevano parlato molto bene in generale, insomma ero amico anche di parte dei relatori quindi ero molto imboiato anche da conoscenza a venire a provarlo e poi in parte anche come associazione che voleva conoscere altre associazioni, quindi networking sostanzialmente. Io faccio parte di un'associazione di divulgazione riguardante i diritti LGBT ma anche i diritti associativi, psicologia, giustizia legale, attualità, un sacco di informazioni o infotainment appunto come dicevamo prima riguardanti l'ambito dei giovani soprattutto e per me è stata un'esperienza fantastica soprattutto anche per questo è stato paradossalmente uno dei migliori workshop a cui ho mai partecipato proprio perché ha funzionato molto bene so che sembra paradossale ma molti workshop a cui ho partecipato sia tramite l'università sia tramite altre associazioni di cui faccio parte e tendenzialmente il processo di networking, il processo di riconoscimento delle varie associazioni fra di loro e di stabilire nuovi appuntamenti futuri atteniva soprattutto dopo al caffè al bar ok quindi le idee si venivano fuori, saltavano però era molto retorico invece questo qui è stato molto bello perché c'è stata proprio una commissione anche di idee, una gestazione di idee che poi ha portato a una restituzione molto interessante. Io facevo parte di un cluster dedicato alle startup e il mio in particolare si chiamava Smarter 1 ed era fondamentalmente puntato sulla ricerca in Emilia Romagna e su come i bandi per la ricerca non siano recepiti dal pubblico più giovane soprattutto. Infatti parlavamo, mi ricordo non mi ricordo più con quale relatore io avessi parlato che mi raccontava un pochino perché c'erano dei relatori esperti per farci credere, per chiedere a chi non ha partecipato a IUDS c'erano dei relatori che sapevano il topic qual'era, te lo spiegavano e ti chiedevano dammi la risoluzione o dammi delle idee a riguardo se si può migliorare anche e quali possono essere anche le problematiche e parlando io ho chiesto ma voi per pubblicizzare la ricerca cosa avete fatto? E abbiamo fatto una campagna pubblicitaria su gli autobus e le fermate degli autobus e ho detto guarda interessante, cioè funziona assolutamente perché gli spettacoli teatrali anche di Modena oppure il nuovo Big Mac viene annunciato di solito sullo sfondo di un autobus però il discorso è che non funziona per i giovani soprattutto perché non posso interagire con quel contenuto, non posso cliccare sì ok c'è il link e metti il www.ma nessuno va a scriverlo ormai i tempi dell'internet sono diventati così veloci che non puoi gestire una campagna pubblicitaria senza avere un'interazione al click così diretta e questo è stato secondo me un grande sbaglio anche e infatti noi avevamo individuato tra le varie problematiche il fatto che non ci fosse la regione né come canali dedicati social come Instagram, TikTok, Facebook ma per la mia generazione è già troppo tardi ormai andare su Facebook oppure su canali divulgativi veri e propri specifici come YouTube ed è lì è sorta anche la questione del si può creare un modo per legarsi ai giovani anche dal punto di vista dell'informazione ma anche della pubblicità sostanzialmente perché qua parliamo soprattutto di avvicinare i giovani poi per l'informazione c'è un altro passo e quello che è saldato fuori è che la parola influencer che tanto ancora viene dalle generazioni più vecchie vista come qualcosa di strano al giorno d'oggi non è nient'altro che la rappresentazione di un lavoro che esisteva dall'alba dei tempi che era quello di saper influenzare le masse cioè come la parola stessa dice e per farlo non c'è bisogno di avere un esperto del settore anche se ci sono tanti esperti del settore che fanno ottima divulgazione su internet mi viene in mente Link4Universe, Geopop ma anche personalità delle mille romagne come youtuber generici adesso mi vengono in mente Spesvall, Luis tra i vari nomi che erano stati fuori che sembrano molto divertenti perché stiamo a puntare anche in un settore totalmente differente dalla ricerca ma anche loro possono essere utili per la divulgazione perché possono fare quello che noi non riusciamo a fare noi intendo dire come Emilia Romagna in situazione regionale cioè arrivare a delle classi giovani che normalmente non recepiremo perché non interessate magari ma perché non conoscono neanche la realtà ecco io credo che il tema che pone Jackson il nostro Giacomo Tomassone sia molto centrato perché oggettivamente è saltato fuori in varie tappe come il problema in gran parte sia proprio la comunicazione ci sono tante opportunità che non vengono recepite che non vengono sfruttate a sufficienza dalle nuove generazioni e non solo proprio perché non si conoscono banalmente e ieri anche nel gruppo Smarter 1 in cui in modo diverso abbiamo collaborato anche io e Giacomo è venuto fuori questa tematica in modo trasversale e quindi grazie soprattutto per avercela ricordata qui oggi un ultimo giro velocissimo abbiamo ancora pochi minuti ma vorrei chiedervi qualche feedback a proposito di quello che avete sentito dagli altri per cui delle sensazioni direi proprio come dire se riusciamo a enucleare qualche idea meglio ma chi c'era ieri a Juzzi e che cosa vi ha colpito maggiormente di ciò che è uscito dal discorso di ieri partiamo in senso inverso proprio da Giacomo ieri erano presenti sia il presidente della regione Monaccini sia la vicepresidentessa Elis Schlein che ha fatto dei pazzeschi discorsi sia all'inizio sia alla fine della conferenza è stato davvero molto interessante soprattutto vedere l'approccio da parte della regione da parte di una figura istituzionale così importante di comunicazione con i giovani quello che è stato fuori è secondo me soprattutto una grande volontà da parte delle generazioni più giovani tra cui i millennials e gli zoomer di volere cambiare le cose in senso soprattutto positivo in senso costruttivo cosa che molto spesso non ci si associa perché si pensa che siamo semplicemente dei distruttori o dei contestatori e nulla di quello che proponiamo attraverso i nostri grandi movimenti Fridays for Future Black Lives Matter e quant'altro che non siano qualcosa di costruttivo quando secondo me in realtà c'è proprio la voglia di trovarle queste idee il problema è che noi non abbiamo ancora gli strumenti perché semplicemente siamo agli inizi della nostra vita ce li dobbiamo ancora fare su questo mi associo veramente in pieno ci sono tanti pregiudizi negativi assolutamente immotivati sulla nostra generazione molto più costruttiva di come di solito si dice Simone mi sentite? Simone ci sei? ci sentiamo ok si è oscurato lo schermo vabbè parlo lo stesso raccontaci un po' qual è la tua sensazione di ieri tu vieni da una organizzazione molto diffusa e che è capace di partecipare di portare avanti anche come dire sforzi complessi dal punto di vista della partecipazione che cosa hai trovato ieri a Jux? la mia sensazione che si collega un po' anche al discorso che ha fatto Giacomo cioè secondo me il workshop è andato molto bene e soprattutto legato allo sviluppo delle idee mi è piaciuta la capillarità delle idee stesse nel senso che non c'era vaghezza cioè si andava direttamente a spiegare il punto della situazione a 360 gradi quindi legato a un problema si vedevano le criticità si vedevano le opportunità si vedevano le risorse gli investimenti da fare e questo senza prendere senza prendere un cluster un topic che è stato spiegato in generale era molto evidente la specificità della richiesta quindi questo secondo me a livello di workshop ha stimolato molto questa è stata la mia sensazione vero non si è stati sul vago non si è come dire non si sono formulate proposte rarefatte proposte che non avessero un aggancio concreto con la realtà ci si è almeno provato a metterci davvero in questa prospettiva e direi che il documento regionale che aspettiamo con le proposte sarà poi la conferma di questa vena pragmatica che tu facciamo riferimento anche prima l'hai notata anche tu Angelica? sì ma io ho notato soprattutto un'altra cosa ma forse perché io di mio sono una persona molto tenera però io ho notato una grande una grande propensione verso il fare comunità e lo stare insieme un momento che mi è piaciuto moltissimo del lavoro di gruppo è stato quello del pranzo c'era anche Francesca poi tu Lorenzo ti sei aggiunto ci siamo messi tutti più o meno in cerchio e abbiamo iniziato a condividere io ho trovato il workshop veramente molto arricchente perché come dicevano Simone e Giacomo è stato sicuramente molto lineare quindi siamo partiti da idee molto concrete che abbiamo sviluppato insieme in sinergia allo scopo di trovare soluzioni molto specifiche mirate però io ho amato molto il processo perché è stato veramente partecipativo poi parlando di diritti qualcosa che spesso si viene anche a creare proprio questo senso davvero di gruppo di empatia quindi da varie poi esperienze singole siamo arrivati anche a potenzialmente provare a denucleare delle proposte concrete ma partendo davvero da quello che noi abbiamo esperito nelle nostre vite e io ho trovato davvero veramente molto arricchente il confronto con le ragazze più giovani del mio gruppo che tra l'altro sono anche Simone e ti dirò molte ragazze di visionary perché ho avuto insomma l'opportuna anche di conoscere Nadia e altre ragazze del tuo gruppo che si sono davvero aperte e che mi hanno lasciato tanto per me il momento davvero più più arricchente è stato quello anche oltre a quello del pranzo il secondo momento più arricchente è stato quello abbiamo fatto un selfie di gruppo dopo l'evento ci siamo abbracciate e io sono uscita col cuore pieno poi sono corsa in manifestazione a Parma manifestazione di ottavo colore ma sono corsa davvero con il cuore ricolmo di speranza per il futuro perché c'era davvero e c'è ancora davvero tanto bisogno di lavorare insieme e questo è quello che mi è rimasto quello che mi ha trasmesso Iuz ecco io credo che ogni sforzo partecipativo deve essere sostenuto da un cuore colmo di speranza per il futuro come ci ha detto Angelica Francesca con te volevo chiudere davvero questa nostra conversazione siamo già agli sgoccioli purtroppo perché il tempo come al solito ci rincorre ma parlando di orientamento perché noi spesso come sindacato siamo molto attenti a orientare a fare in modo che chi fa scelte le faccia conoscendo il mercato del lavoro conoscendo anche quelle che sono le proiezioni che si possono immaginare per gli anni a venire il mercato del lavoro tu ieri però ci hai aiutato fin dalla tua relazione di apertura che ha anticipato l'apertura dei tavoli su cui abbiamo lavorato la dimensione interiore della scelta spesso scegliere è un processo difficile che riguarda il fare i conti con le proprie priorità con le proprie preferenze raccontaci un po' dunque per me di solito mi sentivo un po' bizzarra farlo ma nelle scelte ho ritenuto di presentare di rimettere all'attenzione del futuro i sogni cioè cosa ti piace fare cosa ti appassiona che cosa desideri perché spesso cresciamo con l'idea che il futuro è salario stipendio e status sociale invece il futuro è cosa ti fa stare bene cosa concilia la tua vita con la tua vita familiare e cosa ti muove cosa sai fare ma cosa ti piace fare non che cosa fai o cosa gli altri credono che tu debba fare per me non esiste un futuro senza queste nuove traiettorie che vadano a riprendere la dimensione che vadano a scrivere una dimensione nuova dell'orientamento al futuro che è fatto di scelte consapevoli di cosa mi fare ecco qui era molto chiaro da quello che ci ha spiegato ieri Francesca molto chiaro come il lavoro sia una dimensione della vita e della personalità per cui non si può prescindere da questo io credo che su questo la psicologia ma direi proprio applicata all'orientamento possa dirci tanto in futuro e sicuramente anche con Francesca avremo occasione per approfondire questo tema io do di nuovo la parola al nostro Vatte a quelli che ci ospita sempre per cui al nostro Matteo Cimatti di Radio Fly Web per assicurarmi però di avere almeno un'altra occasione perché dobbiamo fare il punto anche con tanti altri ospiti e spero di riuscire a coinvolgere in questo caso anche i nostri omologhi e quindi CGL e Will che hanno partecipato a quest'ultima tappa e che erano particolarmente come dire orientati a proporre e saranno certamente sarà molto interessante ascoltare anche il loro commento la loro sensibilità su questo tema ho la tua parola Matteo assolutamente sì Lorenzo ci sarà un altro incontro importantissimo portarlo avanti io ti ringrazio perché hai sottolineato anche lo sforzo che sta facendo la CIS per formare anche i giovani al lavoro questa iniziativa che stiamo portando avanti quella di sportello lavoro io ho notato ho imparato tantissimo in questi incontri anche perché io sono di una generazione molto superiore ai 35 e ho notato giovani molto pratici molto pragmatici e molta coesione molto anche il senso di amicizia si è sviluppato in questi incontri ora come ha detto il presidente Buonaccini e la vice presidente Schlein bisogna dare a queste nuove generazioni la possibilità di incidere e credo che la regione lo debba e lo voglia fare io vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento sicuro garantito a un'altra un'altra un altro incontro qui sul web su Radio Flyweb sui nostri podcast e sul canale youtube della Cislemia Romagna